Ciao e benvenuto al mini corso di astrologia applicata alla borsa parte seconda. Io sono Giancarlo Anelli e in questo video voglio mostrarti un po' le basi di partenza in merito alla borsa, darti un orientamento. Per qualcuno saranno informazioni scontate, per altri invece saranno informazioni basilari. E comunque voglio mostrare quello che io seguo abitualmente. Come seguire i mercati? Diciamo innanzitutto che i principali mercati sono gli indici di borsa, le materie prime, le valute, cioè i cambi, e le criptovalute. Le criptovalute sono esplose negli ultimi anni, in particolar modo nel 2017, quando il bitcoin ha raggiunto i 20.000 dollari, e poi c'è stato uno sboom, è tornato a 3.000 dollari, adesso siamo attorno ai 9.000. Ok, gli indici di borsa cosa sono? Sono dei panieri di azioni, cioè le azioni a maggiore capitalizzazione vanno a finire nel paniere. Nel caso dell'indice FUZI-MIB o MIB 40 sono 40 azioni che formano appunto l'indice. Quindi l'indice è già una media delle oscillazioni delle singole azioni. Ciascun mercato ha modalità e orari differenti. Viene oltre da distinguere tra le normali contrattazioni azionarie, come nel caso degli indici, cioè quando vengono scambiate le azioni, e le contrattazioni dei futures. I futures sono degli strumenti derivati che si riferiscono a un indice, a un indice o a un altro mercato. I futures hanno orari dilatati, cioè hanno orari più ampi. In merito all'indice FUZI-MIB italiano, ad esempio, il futures apre alle 8 e chiude alle 22, mentre il sottostante, le azioni, scambiano dalle 9 alle 17.30-17.40. A quell'ora c'è la chiusura ufficiale, così come alle 9 c'è l'apertura ufficiale. Sul DAX tedesco, il futures viene trattato anche di notte, dalle ore 2.15 in avanti circa, non lo so esattamente, e fino alle 22.00. I futures degli indici americani hanno una copertura ancora maggiore, cioè sono aperti quasi sempre, mentre le normali contrattazioni azionarie vanno dalle 15.30 alle 22.00 ore italiane. Ovviamente ci si deve informare sugli orari dei mercati a cui si è interessati. A me interessano principalmente gli indici di borsa e anche l'andamento dei futures, chiaramente seguo in parte le materie prime e quindi sono più interessato a quello. Su indici di borsa e materie prime in ogni caso si va dal lunedì al venerdì, mentre le criptovalute sono negoziabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi quali mercati seguire? Questi sono quelli che seguo io. La scelta dei mercati dipende dalla propria formazione. C'è stato il boom degli indici, poi c'è stato il boom del forex, cioè dei cambi. Io ho iniziato a seguire gli indici 20 anni fa, 25 anni fa, e continuo a farlo. Non ho invece approfondito le valute perché ho visto, ho verificato, che sono poco correlate i pianeti, cioè sono meno correlate rispetto agli indici. Mi interesso in parte delle materie prime e ultimamente mi sono avvicinato alle criptovalute. Perché? Perché le criptovalute hanno una buona rispondenza con i pianeti. Ho verificato nel tempo che questi mercati sono anzi meno manovrati degli indici di borsa, perché sugli indici di borsa ci possono essere le manovre delle banche centrali, sono collegati alle notizie, agli indicatori economici, eccetera. Sulle criptovalute invece devo proprio dire che c'è una buona correlazione con i pianeti. Per quanto riguarda l'applicazione dei minicicli, in ogni caso, io starei ancora sugli indici, monitorando comunque l'andamento delle materie prime e delle criptovalute. Ovviamente per chi fa il trading con i minicicli, il mercato di riferimento è quello degli indici, ma nulla vieta di fare qualche sperimentazione anche su materie prime e criptovalute. I siti di quotazioni. Allora, questo è il sito di quotazioni più conosciuto e più completo, è quello che io utilizzo principalmente, che mi serve come riferimento e da cui trago tutti i dati. Si chiama investing.com. Questa è la home page. Se clicco qui, vado su investing.com. Ok, sono qua. Qua vedo la schermata degli indici. Qua abbiamo tutti gli indici, o perlomeno quasi tutti gli indici principali mondiali. Ne abbiamo un bel po'. Abbiamo l'indice Fuzzi Mib, l'Eurostoxx 50, il Dow Jones, il DAX, il Fuzzi inglese, il Fuzzi 100. Poi qua, molto interessante, abbiamo il DAX, l'indice DAX e subito sotto il Future DAX. In questo momento la differenza tra il DAX e il Future è veramente minima. Questo è il Fuzzi Mib. E nel Fuzzi Mib occorre anche conoscere la quotazione del Future. Quindi io ho già selezionato il preferito, qua il FIB. Il Future Fuzzi Mib, una volta si chiamava FIB, alcuni lo chiamano ancora FIB. In questo momento, ad esempio, vale 17.870 punti. È in rialzo di quasi l'1,70%. La differenza tra il Fuzzi Mib indice e il Future, anche in questo caso, è minima perché la scadenza è abbastanza vicina, la scadenza di giugno, quindi manca circa un mese. La scadenza dei Future è sempre il terzo venerdì del trimestre, marzo, giugno, settembre e dicembre. Ok, torniamo di là. Altri siti di quotazioni. Val la pena, secondo me, ogni tanto dare un'occhiata al sito della Borsa Italiana. Questa è la schermata. Possiamo andare a vedere il sito. Questo è il sito della Borsa Italiana, dove ci sono i dati ufficiali. Altri siti di quotazioni, ovviamente ce ne sono, ma io prendo come riferimento il sito della Borsa Italiana e il sito di investing.com. Poi qua, sul mio sito, giancarloanelli.com, ho una pagina legata proprio alle quotazioni. Queste sono le quotazioni, secondo me, indispensabili da tenere monitorate. Abbiamo qua il FIB, cioè il Future sul Fuzzimib, che abbiamo appena visto. Questa è la pagina degli indici esteri, questa è la pagina delle materie prime. Ok, dove vediamo oro, argento, rame, platino, petrolio, eccetera. Questo è il sito della Borsa Italiana. Qua ci sono i Future italiani. Quindi questo è giugno 2020. Questo non è però in tempo reale, ma è ritardato di circa 15 minuti. Poi ci sono anche degli altri strumenti, ci sono le opzioni, ci sono gli ETF long, gli ETF short, gli ETF long sul DAX, gli ETF short sul DAX, eccetera. Cioè ci sono i link necessari per seguire i mercati con le quotazioni dei principali mercati che interessano. Ok, torniamo di là. Passiamo all'intermediario. Allora, uno vuole iniziare ad operare, o comunque vuole iniziare a fare pratica, come fa a scegliere il broker, cioè l'intermediario? In Italia abbiamo, questi sono quelli che io conosco, con cui sono entrato in contatto, Banca Sella, Fineco, IV Bank, Directa. Questi intermediari italiani servono tendenzialmente per negoziare il mini Fuzzimib e gli ETF. All'estero invece abbiamo diversi broker. Qua io ho selezionato plus 500 perché è quello che consiglio in quanto ha lo strumento dei CFD. I CFD sono degli strumenti derivati collegati agli indici, alle materie prime, a tutti i mercati. E da qui si può aprire un conto demo. Vado su. Ok, questo è il sito di plus 500. Si può aprire un conto demo, prova demo gratuita. E con il conto demo si possono fare delle operazioni. Ok, quali sono appunto gli strumenti operativi da utilizzare sul mercato italiano e sul mercato tedesco? Al momento tengo questi due come esempi. Sul mercato italiano abbiamo detto ci sono i CFD, che vediamo più avanti nel dettaglio. Abbiamo il mini Fuzzimib, che è il future sul Fuzzimib, sull'indice italiano Fuzzimib e ha un valore di un euro al punto. Esempio, 18.000 punti, il valore dell'indice, corrisponde a 18.000 euro. Quindi se c'è una variazione dell'1% sono 180 euro. Poi abbiamo degli altri strumenti, ETF, long e short, alleva 2, replicano di due volte la variazione percentuale dell'indice. Ecco, per fare questi strumenti, gli ETF, non è necessario avere un broker specifico. Si possono acquistare e vendere anche presso la propria banca. Per il mercato tedesco abbiamo detto io consiglio sempre i CFD, per iniziare almeno consiglio i CFD. Adesso vediamo come fare delle operazioni in demo su Plus500. Lo clicco qui, ho già il mio conto demo su cui posso fare operazioni. Il bello è che il conto demo è esattamente uguale al conto reale. Per cui quello che si fa in demo corrisponde poi a quello che si farà sul conto reale. Questa piattaforma è molto utile, direi utilissima e semplice per fare pratica. Adesso simuliamo qualche operazione. Ok, innanzitutto vediamo, qua ci sono tutti gli strumenti. Questi sono i miei favoriti, quelli che ho già selezionato. Questi sono tutti più quotati. Abbiamo l'euro-dollaro, una opzione call sull'euro-dollaro. E abbiamo altri strumenti. Poi abbiamo le materie prime, queste sono le più popolari. Petroglio, zucchero, gas, tutti gli indici. Per selezionare un indice, ad esempio l'indice spagnolo, se io clicco qui lo metto nei miei preferiti. Poi abbiamo anche le criptovalute, tutte le principali criptovalute. Se voglio selezionare una criptovaluta, faccio così e la vado ad inserire nei miei preferiti. Ok, vado qui. Questo è l'indice spagnolo che ho appena inserito e questo è il mio, una criptovaluta. Ok, simuliamo un'operazione sul mercato tedesco, sul DAX. Ammettiamo di volere acquistare. Qui ho acquista-vendi, denaro-lettera. La differenza è minima. Voglio acquistare, cosa faccio? Mi esce una quantità. Quantità contratti 1. Cioè sto acquistando un CFD sul DAX. Qual è il valore, il controvalore? In questo momento è circa 11.530 euro. Perché? Perché un CFD corrisponde a un euro al punto. Quindi la quotazione è 11.525 e il controvalore è 11.527. Quanto mi serve in capitale per poter fare questa operazione? Diciamo che sul conto devo avere come margine 576 euro per aprire questa posizione. Qua io ho inserito 1 ma posso inserire anche una frazione, cioè 0,1. Cioè una decima parte di un contratto. Quindi il mio controvalore sarà di 1152 euro e il margine richiesto è di 57-58 dollari. Allora simuliamo un acquisto. Possiamo già inserire il prezzo in profitto, la chiusura in profitto, cioè il take profit, che qua si chiama ordine limite, e la chiusura in perdita, cioè lo stop loss. Dunque ammettiamo di comprare più o meno a questi prezzi, di inserire già a 11.800 un take profit e a 11.300 lo stop loss. Ok, acquisto. Ok, me l'ha acquistato, vado nelle posizioni aperte. Me l'ha acquistato. Ho acquistato quindi un CFD, valore attorno a 11.500 e qualcosa. Ho già messo un take profit.